Ragazzi non giochiamoci è il titolo del convegno su minori e gioco d'azzardo organizzato dall'osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, ospitato nella sede del consiglio regionale che da tempo punta sull'educazione delle nuove generazioni, all'uso consapevole del denaro e alla lotta all'udopatia. Un momento di confronto, un convegno che ha come tema il gioco d'azzardo e i minori e che è un tema che purtroppo oggi è spesso all'attenzione anche non solo degli organi di stampa e dei media ma soprattutto di chi si occupa di contrastare questo fenomeno che è appunto quello delle ludopatie che sono tanto più pericolose, perniciose quanto colpiscano dei ragazzi ovviamente in giovane età. Credo che il Piemonte sul gioco d'azzardo sia andato avanti con una legge importante e soprattutto con iniziative rivolte a ragazzi molto importanti. Per questo siamo qui perché credo che il gioco d'azzardo sia un'emergenza da tenere presente in tutta Italia e lo Stato deve fare la sua parte non pensando solo agli incassi ma pensando al futuro di questi ragazzi.